La mindfulness sembra essere dappertutto in questi giorni. La troviamo nelle scuole, nelle università, negli ospedali, nelle accademie militari e addirittura nelle grandi aziende come Google, Facebook, Twitter e Paypal. Per alcuni è una terapia, per altri una tecnica da usare in caso di bisogno, ma qui te la proporrò come uno stile di vita, un approccio a quello che ti accade ogni giorno. Mindfulness in breve significa piena consapevolezza del momento presente, ma il modo migliore che ho per farti capire di che si tratta è partire da cosa non è. Ovvero, quando è che non sei pienamente consapevole? Quando agisci con il pilota automatico. Ti è mai capitato di arrivare a casa dopo il lavoro e di non ricordarti niente del tragitto che hai appena percorso? O ancora peggio, di svoltare all'uscita sbagliata della tangenziale o dell'autostrada perché troppo preso dai tuoi pensieri? Oppure ti è mai successo di svuotare il tuo piatto a cena senza avere gustato minimamente il sapore? O esserti accorto di aver mangiato più di quanto avresti voluto perché è ripreso da altro? Se ti è capitato, sei un essere umano normale. Perché svolgere le attività quotidiane con il pilota automatico e quindi non pienamente consapevoli di quello che stai facendo è utile, in parte, perché ti permette di svolgere le tue attività quotidiane risparmiando energie e attenzione, ma può avere anche alcuni svantaggi. Per esempio potrebbe farti commettere degli errori di distrazione, oppure potrebbe farti perdere delle occasioni, darti la sensazione di essere trascinato dagli eventi e farti sentire insoddisfatto poco padrone della tua vita. Se invece impari ad essere più pienamente consapevole di quello che fai e vivi, ecco che puoi diventare più capace di assaporare anche le piccole cose belle che ti accadono. Diventi più attivo, più capace di fare delle scelte efficaci e di padroneggiare meglio mente e corpo nelle difficoltà e di conseguenza provare maggiore soddisfazione e fiducia in te stesso. Ti piacerebbe? Come fare per allenare questa piena consapevolezza? Il bello della mindfulness è che puoi praticarla anche in ogni più piccola azione quotidiana. Per esempio puoi provare anche adesso, bevendo un sorso d'acqua o mangiando una caramella. Potresti chiudere gli occhi per concentrarti meglio e provare a utilizzare i tuoi sensi per percepire tutte le sensazioni che vivi in quel preciso momento mentre fai quelle azioni. Quello che percepisci in bocca, la temperatura, il sapore, la consistenza e tutti i movimenti che fai mentre bevi o mentre mangi la caramella con tutta l'attenzione a quel momento e a quelle sensazioni.